Non vedo niente di anormale nella risonanza magnetica. Nessuna malattia cerebrovascolare, nessun segno di ictus, nessuna massa. Grazie a Dio. E anche le analisi del sangue sono a posto. Ma quello che mi preoccupa sono i test per la memoria che le ho fatto fare. Ha degli sporadici peggioramenti delle prestazioni che sono assolutamente sproporzionati per la sua età. E ci sono evidenze di un declino nel livello delle sue funzioni mentali. Quindi direi di fare una PET. È simile a una risonanza magnetica, ma l'analisi arriva a livello molecolare. So bene cos'è una PET, ma in particolare che cosa vorrebbe cercare? Ecco, voglio vedere se i risultati sono compatibili con il morbo di Alzheimer. Sarebbe insolito per una persona giovane come lei, ma in effetti presenta molti sintomi. L'ultima volta le avevo chiesto di portare un parente stretto. Non pensavo che sarebbe stato necessario. D'accordo, ma la prossima volta vorrei che ci fosse. Capito? Grazie.